Perchè non fare camminare le mie opere all'interno della gente? Tra la gente che cammina, la gente che pasca, la gente che mi vede e quindi ho pensato di trasferire i miei colori e le mie sensazioni, le mie opere, su dei capi degli amici dove io introduco delle immagini in montagna, i colori miei particolari e faccio questo. Quindi i miei quadri camminano per la strada. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.